Buongiorno a tutti, io sono Daniele De Cia, oggi io vi parlerò di qualcosa di nuovo. A parte la battuta legata alla società che rappresento, che si chiama New, New come view, in realtà avendo ascoltato gran parte delle presentazioni di oggi, mi rendo conto di parlarvi veramente di qualcosa di nuovo rispetto al tipo di tecnologia a cui siamo abituati a guardare. Nio è un team di 10 persone, siamo uno studio di progettazione dell'esperienza d'uso, vuol dire che progettiamo le interfacce per migliorare le esperienze d'uso delle persone. Quindi in sostanza facciamo design, ecco in questa parola su cui ognuno di voi associa diversi significati, ognuno di noi ha un'aspettativa diversa, si gioca gran parte della nostra relazione con i nostri clienti. Quindi già parlando di design in Italia, nel contesto industriale, stiamo parlando di diversi modelli di fornitura. Facciamo i conti con tutta la storia che questo concetto ha e ci rendiamo conto, noi siamo nuovi in tutte le accezioni del termine, siamo nati nel 2012 e in breve tempo siamo entrati nell'ambito del CRIT. Ci siamo resi conto che il concetto stesso di design è cambiato molto da quando abbiamo iniziato a raccontarlo all'ambito industriale. La cosa principale di cui tutti si rendono conto abbastanza velocemente è che in realtà, pensando al design come grafica, si pensa in realtà alla parte emersa di un iceberg, solo alla superficie. Invece il valore sta in profondità. È ciò che riguarda il funzionamento di qualcosa e quindi non è solo l'interfaccia e soprattutto è l'attività che l'interfaccia sta mediando. Che cosa sta avvenendo in questi anni? Che il design stesso sta facendo un percorso e questo inevitabilmente non soltanto influenza il nostro lavoro, ma anche le modalità di rapporto tra noi e i nostri clienti. Ci sono dei punti in cui anche un po' il modo di parlarne, di narrare un argomento ha un boost. Senz'altro la pubblicazione di questo numero dell'Harvard Business Review per chi fa il nostro lavoro ha significato abbastanza. È il momento in cui si è sancito che l'argomento in se stesso è di interesse per gli executives, che vuol dire che non riguarda soltanto il lato dei costi, ma anche quello dei ricavi. E questo pian piano, soprattutto in ambito anglosassone, ha trovato anche delle quantificazioni. Questo è il famoso per chi è nell'ambito design index, ovvero dato l'indice di società che trovate elencate sulla sinistra, sono esattamente quelle società che sono definite come design centric, cioè mettono il design al centro dei loro processi e quindi anche delle forniture, nel complesso hanno uno spread di quasi il 220% rispetto a tutte le altre, quindi come valore bancario, quindi il design è qualcosa che porta a risultati molto tangibili. Però il punto è che la difficoltà sta nel fatto che si occupa della parte non tecnologica, cioè quella che sta fra l'interfaccia e le persone. Quindi tutta l'alta tecnologia disponibile nella parte meccatronica sarebbe nulla se non fosse utilizzabile da parte delle persone umane, siano essi gli operatori, i supervisori, i direttori di stabilimento, i vertici dell'azienda. E dato che è esponenzialmente veloce la progressione dell'innovazione sulla parte tecnologica, hardware e software, quella umana non potrà mai stare alla stessa velocità, non potrà progredire allo stesso modo, anzi necessita di semplificazione, di maggiore chiarezza, possibilità di utilizzo di tutte le informazioni e le funzionalità. Quindi essenzialmente il design è questo, se dobbiamo arrivare a ciò che stiamo imparando nelle forniture. È un approccio di problem solving che ha due caratteristiche. Innanzitutto è iterativo, e questo è un termine a cui ci siamo tutti abituati, dalla frequentazione con le metodologie agili all'inmanufacturing. Quindi si impara sbagliando velocemente, il design è un metodo per sbagliare velocemente, prima che sia troppo tardi, cioè prima di essere sul mercato. E l'altra caratteristica importante è che è fatta con le persone. Quindi noi, come tutte le agenzie, o come tutti i soggetti che devono avere un impatto sulle cose concrete, abbiamo un metodo, e quindi abbiamo delle fasi. Raccontarvi come lavoriamo, cioè che prima studiamo il contesto e quindi coinvolgiamo utenti, stakeholders, poi facciamo sedute di analisi nel contesto reale, e quindi facciamo emergere le problematiche reali legate a contesti fisici, che poi passiamo attraverso vari gradi di prototipazione per arrivare alla definizione della vera applicazione, forniamo delle specifiche a chi deve sviluppare, e questo è solo l'inizio, perché in realtà, avendo messo qualcosa di nuovo nel mondo, stai cambiando i processi e quindi devi tornare a lavorarci. Ecco, questa spiegazione che vi ho dato è molto lineare. è tipica della catena di forniture, è tipica del come siamo abituati a raccontare il lavoro che facciamo tutti, siamo abituati a quotarlo, siamo abituati a pianificarlo. Quello che tutti impariamo, e forse non si racconta abbastanza, è che in realtà ciascuna di queste fasi è iterativa al suo interno. Anzi, devo sbagliare velocemente nella fase di analisi per arrivare a quei veri insight che poi mi servono per fare ipotesi e sbagliare velocemente nella fase di design. Questo abbiamo imparato soprattutto all'interno di un sistema, che è quello che è il CRIT, che ci ha dato l'opportunità di lavorare per aziende che ne fanno parte o che sono state comprese nei progetti che abbiamo fatti per loro. Come vedete sono, in questo caso casualmente sono tutti costruttori di macchine, ma non è limitato solo a questo ambito. Però sono imprese di dimensioni diverse, di settori diversi, anche problematiche diverse. Tant'è che il design è stato chiamato a fare parti diverse. Per Cebora abbiamo creato un prodotto che non esisteva, quindi siamo partiti dalla concezione di un'interfaccia, di una modalità d'uso che non esisteva. Abbiamo migliorato dei processi. Nel caso di E-Mal abbiamo fatto un redesign di un'applicazione esistente. Nel caso di Tetra Pak addirittura abbiamo contribuito a portare la famiglia di prodotti che già esisteva ad avere un family face, cioè un'apparenza, un comportamento che è coerente all'interno di tutta l'offerta del gruppo. Questo è stato un cammino non lineare in cui è cambiata molto la nostra stessa concezione di design e ogni volta che arriviamo all'appuntamento del fornire valore al cliente evolve la concezione stessa che abbiamo di cosa vuol dire fare design. Adesso siamo arrivati a vederlo in questo modo, da qui, forse il titolo provocatorio della presentazione. La catena di fornitura non è una catena ma somiglia molto di più a un sistema. Perché in realtà non è neanche vero che l'iterazione si svolge solo a livello delle fasi di progetto. perché è più simile a una cosa del genere in cui al centro potete vedere l'inizio del ciclo di vita di un prodotto o di un'azienda nel caso di una start-up quindi coincide con il prodotto in cui in realtà sono compresenti e coesistenti tutte le funzioni aziendali. Ne manca una che non è una vera funzione aziendale e infatti non trova facilmente una collocazione. Ma questa cresce piano piano perché in realtà le attività si innestano, vanno a contribuire su tutte le altre funzioni. Perché fare progettazione e fare problem solving iterativo con le persone vuol dire intervenire anche sulla loro idea di design migliorandola, arrivando a negoziarla. Quindi il nostro lavoro si adatta sulle aspettative che ogni singola funzione aziendale ha. I problemi che deve risolvere. E quindi in diverse fasi del ciclo di vita del prodotto o dell'azienda fornisce cose diverse. Questo abbiamo imparato anche grazie alle opportunità date dal CRIT. Quello che oggi ci portiamo dietro è che fare, fornire valore ai nostri clienti significa essere maggiormente consapevoli del sistema in cui ci inseriamo. Quindi non diamo soltanto un intervento in una catena sequenziale, ma ci inseriamo in qualcosa che poi cambia anche grazie al nostro apporto. È tutto. Grazie. 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 Grazie.